Stadio Comunale di Grotte. Per la quindicesima giornata del campionato di seconda categoria scendono in campo le formazioni di Grotte Olimpica San Cataldo. Olimpica San Cataldo in completo bianco con magliettina blu e azzurra, classici colori giallo e neri per il Grotte. Con le immagini di Calcedonio Iacuzzo vi auguriamo buona visione, calcio d'avvio per il Grotte. Tutto pronto, partiti! Attenzione, è pericoloso il Grotte. 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 Vamo! Arriba! Arriba! Vamo! Vedi! Vamo! Vai Rico! Vai Rico! Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Yeah. 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 Grazie a tutti. Yeah. 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 Perciò di punizione non ravvisato dall'arbitro. Attenzione Grotta al tiro e ancora Curatolo. Che si ripete dopo aver parato il calcio di rigore ma l'azione ancora non è finita. Grazie a tutti. Tempo scaduto ma c'è ancora qualcosa da recuperare. Calcio di punizione per l'Olimpica. Calcio d'angolo per il Grotte. Curatolo con i pugni. Calcio d'angolo per il Grotte. Comunale di Grotte. Squadra negli spogliatoi finisce qui il primo tempo tra Grotte e Olimpica a San Cataldo con il punteggio di 0 a 0.